Un saluto a tutti voi, siamo su Jeep Wrangler, nuovo prodotto dedicato, come vedete ha una grafica diversa, poi abbiamo installato anche il contachilometri digitale e le bocchette d'aria dedicate, dove si potranno gestire dal contachilometri digitale. Parliamo del car tablet, questa è la home, poi possiamo andare direttamente in radio, possiamo gestire cambio stazioni o volume, ovviamente tutto da qui, oppure anche da qui. Torniamo nella home, abbassiamo il volume, qui abbiamo la home con le varie impostazioni, andiamo in gestione musica, tramite la USB possiamo gestire audio e video, andiamo nei contenuti USB, possiamo vedere tutto, torniamo indietro e possiamo andare nelle applicazioni. Nelle applicazioni abbiamo navigatore, radio, gestione video, via voce bluetooth, streaming musicale, poi andiamo alla dashboard veicolo, qui abbiamo Apple CarPlay, Android Auto, sia via cavo che senza cavo, il Play Store, Maps, YouTube, possiamo eseguire lo split screen, questo è il Play Store, dove il cliente potrà scaricare tutte le app, oppure attivare Apple CarPlay, come preferisce lui, questo è il via voce bluetooth, una volta che verrà il cliente andiamo a collegare il bluetooth, potrà eseguire anche lo streaming musicale, poi abbiamo parlato della dashboard e ambient, qui andiamo nella dashboard dove possiamo fare una serie di effetti che andrà direttamente qui come vedete nel contachilometri digitale, queste sono tutte personalizzazioni che eseguirà il cliente a suo piacimento. Usciamo dalla funzione dashboard, abbiamo anche la gestione amplificatore originale, perché qui abbiamo un pacchetto sound originale con amplificatore, andiamo a gestire tutto quanto. Dopodiché per quanto riguarda la dashboard,